Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. L'esplosione ha sventrato l'abitazione in cui vive una coppia di anziani. Lui se la caverà, la donna è grave in ospedale. All'origine dello spaventoso incendio, una fuga di vagasse questa mattina al primo piano di via Malamoco 55 tra le campagne di San Michele a Tagliamento. Erano da poco passate le 7 quando marito e moglie Giovanni Giusto e Anita Puntella si sono alzati dal letto. Lei, 70 anni, poco dopo, è andata in cucina ed è in quel momento che si è scatenato l'inferno. Un botto impressionante, udito a chilometri di distanza, che ha squarciato la bella villetta tra le campagne di Cesarolo. Nell'esplosione si è scatenato anche un incendio che ha interessato il primo piano della casa ed è stato proprio giusto a portare in salvo la moglie, allertando il 118. La chiamata è stata intercettata dal Sores di Palmanova, che gestisce il numero unico europeo dell'emergenza nella vicina regione Friuli-Venezia-Giulia. Immediato l'allarme è lanciato ai sanitari, ai vigili del fuoco e ai carabinieri. In poco tempo sono arrivati i soccorsi da più fronti. Sul posto i sanitari del pronto soccorso di La Tisana con i colleghi dell'elisoccorso arrivato da Campoformido, i vigili del fuoco di Lignano, Porto Gruaro, San Vito a Tagliamento, raggiunti anche dai colleghi di Mestre con il funzionario e il capo servizio. Abbiamo visto Anita mentre la stavano portando in giardino, raccontano i vicini, arrivati in massa dalla zona dopo aver udito il botto. I sanitari l'hanno adagiata sulla lettiga, prestandole le prime cure. Non si muoveva, abbiamo avuto paura. Di lì a poco è atterrato l'elicottero del servizio di emergenza Friulano, che ha caricato la paziente, trasferendola in ospedale a Udine. Le condizioni della donna sono molto gravi. Ha riportato ustioni sul 90% del corpo e per questo è stata trattenuta in terapia intensiva, con prognosi riservata. Il marito invece, che non è stato investito direttamente dall'esplosione, se la caverà. Giovanni Giusto, seppur scioccato, è stato trasferito in ospedale dal figlio, ma non è. Infatti, in gravi condizioni, sono state poi avviate le indagini per chiarire le cause dell'esplosione. Con i carabinieri, la squadra investigativa dei vigili del fuoco, che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo e verificato l'impianto del gas, secondo una prima ricostruzione, pare che la cucina fosse satura di GPL, probabilmente per un guasto. Non hai fatto due scontrini, io sono un finanziere, se vuoi posso darti protezione. Queste le parole che Giovanni ha imparato, 50 anni napoletano, residente a Mestre, avrebbe detto a un commerciante, a Caorli, per truffarlo. Ma Guido Kenette, residente a Preganziol, titolare della gelateria e pizzeria Ice Delfino di Caorle, della Lido Altanea, non è caduto nel tranello. Ha chiamato i carabinieri che hanno preparato il blitz. I militari del maresciallo Francesco Lambiase si sono travestiti da baristi e hanno arrestato il falso finanziario in flagranza. Quell'uomo mi tormentava da 15 giorni, racconta Kenette, si è rappresentato come un finanziere. La prima volta ha detto che stava attendendo una signora che però non si è mai vista, poi si è rappresentato facendomi notare che non avevo fatto due scontrini, un fatto impossibile perché il nostro sistema è automatico con emissione dello scontrino immediato. Continuava a dire che avevo bisogno di protezione, che conosceva persone importanti che avrebbero potuto proteggermi da eventuali sanzioni. Insomma, un ricatto, sono andato dai carabinieri. Gli investigatori dell'arma si sono messi a preparare la trappola. Nel frattempo il 50enne si è rifatto vivo, spiegando al commerciante che sarebbe servito un premio per la persona che lo avrebbe aiutato. Prima ha chiesto 1.000 euro, poi 500 e infine 300, una trattativa da mercante più che da finanziere. Il 50enne ha riferito che l'indomani sarebbe passato con un'altra persona per prendere il denaro da consegnare dopo aver preso un caffè. Martedì pomeriggio, imparato, eravato in compagnia di un amico e ha ordinato due caffè. Ai tavoli, seduti come dei turisti, c'erano però i carabinieri con il maresciallo Lambiase, mentre un altro militare si era messo al banco con tanto di canovaccio legato in vita. Come da accordi, Chelet ha portato i caffè e sotto alla zuccheriera ha messo una busta con 300 euro. Non appena Naponetano si è impossessato del denaro precedentemente fotocopiato, i carabinieri sono balzati dai tavolini e dal bancone e lo hanno bloccato. Imparato, residente appunto a Mestre, era già noto le forze dell'ordine. Solo un paio di settimane fa è stato denunciato per un caso analogo accaduto a Porto Gruaro. È stato portato in tribunale a Portenone per il direttissimo con l'arresto convalidato e l'obbligo di dimora. Obbligo di dimora a Musile, detenzione domiciliare notturna confermati per Alberto Valzoler, il sessantenne ex-edentista di Sadona di Piave, guru della finanza, accusato di associazione delinquere finalizzata a riciclaggio transnazionale di denaro sporco e per questo condannato dal Tribunale di Padova a 11 anni e 8 mesi di reclusione. La decisione è arrivata dal Tribunale del Riesame di Venezia, di fronte al quale gli avvocati di Vazzoler, i penalisti Giorgio Pietramala e Andrea Franco, avevano chiesto la revoca delle misure per permettere a Vazzoler di riprendere il proprio lavoro. I giudici però hanno stoppato le richieste. Unica concessione è stata la restituzione del passaporto all'ex dentista che così si è visto cancellare il divieto di espatrio. Dovrà comunque rispettare l'obbligo di dimora musile, una decisione che gli avvocati Pietramala e Franco hanno già annunciato di voler impugnare. L'ex dentista e i suoi complici, secondo l'accusa, facevano partire bonifici dalle banche svizzere verso società intestate a Vazzoler in Repubblica Ceca, Slovacchia e Dubai. Quindi, attraverso fatture false, facevano figurare l'acquisto di lingotti d'oro, così da ripulire il denaro. E dagli Emirati Arabi Uniti i soldi regolari vi venivano imbarcati negli aerei e rispediti in Svizzera, di nuovo a disposizione dei clienti dell'organizzazione. Vazzolera e i suoi trattenevano tra il 5 e il 10%. Avrebbero bonificato 110 milioni di euro. La giustizia fa il suo corso e quando arriva non fa sconti. Ne sa qualcosa accadì un 45enne rumeno residente in Germania, in questi giorni in vacanza a Bibione, finito in carcere per una vicenda che risale al 2007. Una storia che l'uomo, padre di famiglia, aveva praticamente dimenticato. Non però l'autorità italiana, che aveva infatti emesso un mandato di cattura per il 45enne. Gli investigatori dell'arma di Bibione, agli ordini del maresciallo Pietro Gadeo, hanno scoperto che l'uomo era arrivato nella località turistica per una breve vacanza con la famiglia. Al posto della colazione, però, l'uomo si è ritrovato ai carabinieri con il mandato d'arresto. Fatti che risalgono ancora al 2007, quando HD finì a processo per un contenzioso a Milano con il datore di lavoro di allora per una vicenda legata all'utilizzo di alcuni attrezzi, che gli costa una denuncia per calunnia aggravata. Quindi se ne tornò in Romania e poi definitivamente in Germania, dove ora lavora regolarmente da diversi anni in un mobilificio, non curandosi più di quel procedimento penale che in Italia nel frattempo ha fatto il suo corso e che dopo diverse udienze è arrivato a conclusione proprio quest'anno. Il 45enne è rimasto sorpreso quando i carabinieri di Bibione gli hanno notificato l'atto del procedimento, di cui nemmeno si ricordava. Così l'uomo è passato dalla bella vacanza al mare al castello di Pordenone, dove si trova rinchiuso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Francesca Zacariotto si è dimessa da consigliere comunale di Sandonà a far maturare la decisione di lasciare l'obiettivo di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Venezia, dove è già assessore ai lavori pubblici nella giunta guidata da Luigi Brugnaro. Del suo impegno Zacariotto evidenzia l'importanza che ho sempre dato a Sandonà, che ha bisogno di un'opposizione costante e continua perché possa essere efficace. Anche per questo ho deciso che è il momento di voltare pagina. Ex sindaca per una decina di anni, come vede Sandonà dopo essere seduta per circa due anni sui banchi dell'opposizione, ha ribadito una città trascurata e una politica ferma e a ragionare sul passato. Nel frattempo, dice Zacariotto, la città soffre a causa di alcuni problemi per cui serve essere presenti. Ringrazio chi mi ha permesso di fare un'ulteriore esperienza a livello locale. Ora saluto e passo il testimone. Zacariotto spiega chi intende presentarsi alle comunali di Venezia, dove si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre. La legge prevede che la funzione di consigliere sia incompatibile, oltre che essere inopportuna, in due comuni diversi, mentre non lo è l'incarico di assessore. Sono impegnata a Venezia e intendo continuare a farlo. L'esperienza in una grande città mi permette di essere una amministratrice più che impersonare un ruolo politico. Amministrare come sindaco o assessore significa occuparsi di aspetti concreti, sistemare una strada, un'opera pubblica, ruoli che hanno sempre caratterizzato il mio operato, anche se non si tratta di funzioni che permettono di regiferare. Qualche mese fa erano girate voci di una sua probabile partecipazione alle regionali. Ho scartato, ha detto, questa ipotesi già in febbraio quando erano emerse quelle voci. Ho sempre assicurato di non essere interessata alle regionali. Ho sostenuto che se avessi voluto continuare a fare politica avrei scelto il livello comunale che caratterizza meglio il mio percorso, l'ambito che prediligo proprio per quanto concerne l'operatività. Quella a Venezia è un'esperienza interessante, una città che conosco, dove ho studiato, lavorato e di cui mi ero occupata anche come presidente della provincia. A succedere nel parlamentino di San Donà, come referente della lista insieme con Francesca Zaccariotto, sarà Simone Cereser, 33 anni, San Settembre, tecnico di laboratorio del servizio traspusionale di San Donà e Porto Gruaro. In 4 per 85 ospiti a Gruaro si dimette tutto il personale infermieristico della casa di riposo. I lavoratori sono sul piede di guerra per il carico di lavoro che non permetterebbe loro di poter assistere gli ospiti della residenza Gruaro. Lamentano anche stipendi bassi, oltre al fatto di essere stati costretti a pagare 1000 euro per diventare soci della cooperativa CODES e altri 3000 per l'acquisto delle quote societarie. Attualmente in servizio presso la struttura sono rimasti 4 infermieri con 85 ospiti, ha spiegato Pietro Polo della UILP FPL di Venezia. È una situazione inaccettabile in quanto la turnistica e i carichi di lavoro sono diventati insostenibili e non permettono di svolgere le attività con la dovuta concentrazione e tranquillità. Né si può dire che vi sia attenzione da parte dei responsabili. La sensazione è quella che abbiamo ormai solo il compito di convincere il personale a tirare avanti senza trovare soluzioni e mettendo così a rischio gli stessi addetti, i quali hanno precise responsabilità nel svolgere le loro mansioni. È ben nota la carenza di personale infermieristico e OSS, però questo non giustifica il comportamento della CODES. Tutta questa situazione ha determinato la decisione del personale infermieristico di presentare le dimissioni per giusta causa. Il personale infermieristico, attento alle necessità degli ospiti, ritiene di dare un preavviso di 7 giorni. Da martedì prossimo quindi il personale non si presenterà più al lavoro. Con questo preavviso la CODES che gestisce la residenza potrà trovare soluzioni, ribadisce Polo. Qualora questo avvenisse il personale sarebbe pronto a ritirare le dimissioni. Ho scritto anche all'azienda sanitaria affinché si faccia carico di questo grave problema. Rimango disponibile per un confronto finalizzato a trovare una soluzione. E intanto i familiari degli ospiti sono preoccupati per i loro cari non sapendo se la situazione che si è creata possa compromettere l'assistenza. Entro martedì le istituzioni dovranno trovare una soluzione. Il sindaco Giacomo Gasparotto si è già attivato con la proprietà per capire quali siano le problematiche da affrontare. Il Covid-19 ha avuto ripercussione sulle casse municipali di Oderzo. Durante l'ultimo consiglio, quando è stata svolta la ricognizione degli equilibri di bilancio, sono state riscontrate diverse minori entrate per 175 mila euro. Per le entrate extra tributarie, spiegano dal municipio, si segnala la flessione delle entrate di sanzioni codice della strada per meno 95 mila euro e da parcheggi con altri meno 40 mila. Del resto, nei mesi durante la quarantena, i veicoli in circolazione erano veramente pochi, dato che si poteva sostare solo per reale necessità. Mentre le sanzioni che sono state emesse per violazioni nel rispetto della quarantena, ad esempio persone trovate a passeggiare sull'argine quando vi era il divieto di accesso, sono confluite nel Fondo regionale per l'emergenza del coronavirus. Il settore delle costruzioni, che già patisce di suo una profonda crisi, è stato ulteriormente colpito. Si segnalano meno 40 mila euro di entrate da permessi a costruire. Nel contempo si sono stati dati degli specifici trasferimenti dallo Stato. C'è stato uno stanziamento di quasi 40 mila euro e inoltre è stato dato un acconto su un'altra somma che dovrebbe arrivare, sono circa 187 mila euro. Grazie a ciò si riesce a raggiungere l'equilibrio di bilancio. Gli equilibri di bilancio, conferma Scardellato, sono verificati senza tagli ai servizi. Da dire comunque che ci sono state anche minori spese. I controlli eseguiti hanno infine confermato che non vi sono debiti fuori bilancio. Intanto sono più di una trentina le richieste che sono arrivate in municipio, inoltrate dai proprietari che hanno abbassato gli affitti alle attività commerciali che sono loro inquilini. L'iniziativa era stata presa dall'Aggiunta Scardellato per dare una mano al settore delle partite IVA, in particolare a negozi, laboratori, artigiani, uffici e palestre, la cui attività è stata penalizzata dalla pandemia. Con mesi di chiusura e ripresa difficile, la riduzione dell'aliquota IMU viene accordata a coloro che hanno proposto ai propri inquilini una riduzione del canone di locazione. Le domande non sono state molte, commenta il sindaco Maria Scardellato. La maggior parte sono state fatte da proprietari che hanno abbonato una mensalità di affitto ai loro inquilini, il che sembra indicare che la gran parte delle attività commerciali di Oderzo si svolgono in locali in affitto. Vacanza terminata nella tragedia per un anziano turista che ha perso la vita per un probabile malore che lo ha colto mentre era in acqua. È successo verso le 17.45 di ieri nelle vicinanze della torretta 15 nella zona del consorzio Venezia all'altezza di Piazzetta Carducci. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano di 75 anni è entrato in acqua per un bagno refrigerante, ma già dopo le prime bracciate sarebbe stato visto in difficoltà. Altri bagnanti che hanno notato la scena gli si sono avvicinati e, compreso con la situazione della seria, lo hanno trascinato a riva, mentre sono stati allertati gli addetti al salvataggio della Jesolo Turismo che sono intervenuti con il defibrillatore. Hanno avviato le pratiche di rianimazione ma senza ottenere risultati. Nel frattempo sono intervenuti anche i sanitari del 118 che a loro volta hanno usato il defibrillatore, ma anche in questo caso senza esiti positivi per l'uomo. Non è rimasto che constatarne il decesso. Non è escluso che l'anziano sia stato colto da un malore. Sul posto sono arrivati gli uomini della guardia costiera per ricostruire la dinamica sulla base delle testimonianze di chi era intervenuto. Il magistrato di turno, avvisato dell'accaduto, ha disposto che la salma venisse restituita ai familiari. La salma è stata composta nella cella mortuaria dell'ospedale. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!